Mimosa è in omaggio a tutte le donne che si avvicinano alla donazione del sangue. È l'iniziativa che l'Avis di Mistretto ha organizzato per la giornata mondiale della donna. I volontari dell'associazione infatti, oltre ad una raccolta straordinaria del sangue rivolta a tutti, hanno voluto in particolare rivolgersi alle donne per sensibilizzarle su un gesto così importante. Il ramo di Mimosa è andato a tutte le donatrici, ma anche a chi ha deciso di avvicinarsi proprio oggi all'Avis. Abbiamo deciso di fare questo piccolo gesto per far sì che le donne si avvicinano di più a quella che è la donazione. Ovviamente non è solo per le donne ma anche per gli uomini, ma in questa occasione era giusto per farle avvicinare di più visto che siamo in minoranza. E poi, come abbiamo anche scritto, donare è donna. Quindi speriamo che sia più donne oggi che uomini. Proprio per questo abbiamo deciso di offrire alle donne un sacchettino con la Mimosa dove abbiamo scritto un piccolo gesto, il regalo più bello.